FAST POWER HEATER 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 Spesso mi diverto a fare qualche lavoretto manuale di bricolage. Prima nelle stagioni più fredde non potevo dilettarmi perché nel mio garage non riscaldato faceva troppo freddo. FAST POWER HEATER FAST POWER HEATER FAST POWER HEATER Tua a soli 49 euro e solo per oggi super offerta. In omaggio con FAST POWER HEATER il comodo telecomando per azionarla e regolare la temperatura che desideri senza alzarti. E inoltre grazie alla funzione timer puoi decidere tu quando vuoi che si spenga automaticamente. L'offerta è valida solo se chiami adesso. Cosa aspetti? Sei freddolosa e vuoi che l'ambiente ovunque tu vada sia sempre caldo? Tieni basso riscaldamento per risparmiare sulla bolletta e sei costretto a stare in casa sempre sotto la coperta? Abbiamo la soluzione per te. Da oggi puoi farlo senza riempire la tua casa e la tua borsa con maglioni e coperte ma semplicemente acquistando la nostra stufetta portatile a basso consumo FAST POWER HEATER. La metti in qualsiasi presa di corrente e in 10 minuti il tuo ambiente sarà caldo e confortevole. Puoi portarla con te ovunque, non occupa spazio, è leggera ed economica. Grazie a FAST POWER HEATER avrai un notevole risparmio pure sulle tue bollette. Anche se in dimensioni ridotte e bassi consumi energetici riesci a riscaldare ambienti fino a 25 metri quadri in pochissimo tempo. Guarda la differenza prima e dopo 10 minuti con la nostra stufa. FAST POWER HEATER è piccola e potente. Grazie al suo innovativo design termoceramica non ingombra e riscalda qualsiasi ambiente meglio delle stufe tradizionali così ingombranti, assicurandoti un notevole risparmio economico sulle tue bollette. Vedendo le sue dimensioni così compatte, sembra impossibile che riesca a tenere calda una superficie così vasta. Ma la soluzione sta nella microinnovativa tecnologia che consente di usare meno potenza, meno energia per produrre l'elevato calore di cui abbiamo bisogno. Sai bene quanto è fastidioso e malsano sentire i piedi ghiacciati quando sei costretto a stare fermo durante le faccende domestiche? O mentre studi? O mentre lavori? Per non parlare quando al mattino presto ti spogli per lavarti nel bagno gelido. La vera innovazione consiste proprio nella sua combinazione tra portabilità e prestazioni. E sì, perché alla sera, quando hai finito di prepararti per andare a dormire, esci dal bagno con la tua Fast Power Heater e la colleghi vicino al letto. Così puoi sentire il tepore mentre leggi il tuo libro preferito prima di addormentarti. Ciò che è incredibile non è solo il costo contenuto, non è solo la sua compattezza, non è solo la sua portabilità, ma è soprattutto la sua capacità di scaldare una stanza intera. E la usi tutto l'anno, anche in quelle mezze stagioni, proprio quando non vuoi scaldare tutta la casa perché non ce n'è bisogno, ma al mattino o alla sera la temperatura scende e hai bisogno solo di quel giusto calore e solo per qualche ora. Di giorno puoi portartela comodamente dentro lo zaino, nella borsa, così puoi avere le tue gambe belle calde anche quando sei al lavoro. E allora basta bollette alle stelle, basta trascinarsi per la stanza avvolti nelle coperte, basta indossare un maglione sopra l'altro. Da oggi puoi stare comodo a casa, sulla poltrona, sulla sedia, a letto e fare tutto quello che desideri nel pieno tepore grazie a Stufetta Perfetta by Fast Power Heater. Stufetta Perfetta, tua, a soli 49 euro e solo per oggi super offerta. In omaggio con Fast Power Heater, il comodo telecomando, per azionarla e regolare la temperatura che desideri senza alzarti. E inoltre, grazie alla funzione timer, puoi decidere tu quando vuoi che si spenga automaticamente. L'offerta è valida solo se chiami adesso. Cosa aspetti? Ogni volta che rientro a casa la trovo sempre fredda e per riscaldarla impiego troppo tempo, mi costa troppo. Ma grazie alla mia stufetta, ora risparmio tempo e soldi e mi permette di riscaldare solo l'ambiente di cui ho bisogno. Adoro Fast Power Heater e la porto sempre con me. È fantastica! Fast Power Heater ti permette di regolare le temperature che preferisci e le due ventole di cui è dotata fanno circolare l'aria distribuendo il giusto tepore in tutto l'ambiente. Ideale per luoghi umidi o per ambienti penalizzati da spifferi di porte e finestre. Ideale anche per scaldare garage o laboratori seminterrati. Grazie alle sue dimensioni compatte, puoi portarla con te ovunque tu vada. Fast Power Heater. Pratica, economica, efficiente. Il giusto compromesso per riscaldare i tuoi ambienti in poco tempo, senza ingombro e a basso consumo. Affrettati! Acquista Fast Power Heater per trascorrere il tuo caldo inverno. Vivo da solo e lavoro da casa. Spengo il riscaldamento generale perché lavoro nel mio comodo studio che scaldo con Fast Power Heater. È incredibile quanti soldi risparmio. Spesso mi diverto a fare qualche lavoretto manuale di bricolage. Prima nelle stagioni più fredde non potevo dilettarmi perché nel mio garage non riscaldato faceva troppo freddo. Ora basta che accendo la mia Fast Power Heater e posso stare al caldo tutto il tempo che voglio e divertirmi a fare i miei lavoretti. E allora basta bollette alle stelle, basta trascinarsi per la stanza avvolti nelle coperte, basta indossare un maglione sopra l'altro. Da oggi puoi stare comodo a casa, sulla poltrona, sulla sedia, a letto e fare tutto quello che desideri nel pieno tepore grazie a Stufetta Perfetta by Fast Power Heater. Stufetta Perfetta, tua a soli 49 euro. E solo per oggi, super offerta! In omaggio con Fast Power Heater il comodo telecomando per azionarla e regolare la temperatura che desideri senza alzarti. E inoltre, grazie alla funzione Timer, puoi decidere tu quando vuoi che si spenga automaticamente. L'offerta è valida solo se chiami adesso. Cosa aspetti? Sei freddolosa e vuoi che l'ambiente ovunque tu vada sia sempre caldo? Tieni basso riscaldamento per risparmiare sulla bolletta e sei costretto a stare in casa sempre sotto la coperta? Abbiamo la soluzione per te! Da oggi puoi farlo senza riempire la tua casa, la tua borsa, con maglioni e coperte, ma semplicemente acquistando la nostra Stufetta Portatile a basso consumo Fast Power Heater. La metti in qualsiasi presa di corrente e in 10 minuti il tuo ambiente sarà caldo e confortevole. Puoi portarla con te ovunque, non occupa spazio, è leggera ed economica. Grazie a Fast Power Heater avrai un notevole risparmio pure sulle tue bollette. Anche se in dimensioni ridotte e bassi consumi energetici, riesci a riscaldare ambienti fino a 25 metri quadri in pochissimo tempo. Guarda la differenza prima e dopo 10 minuti con la nostra stufa. Fast Power Heater è piccola e potente, grazie al suo innovativo design e termoceramica, non ingombra e riscalda qualsiasi ambiente meglio delle stufe tradizionali così ingombranti, assicurandoti un notevole risparmio economico sulle tue bollette. Vedendo le sue dimensioni così compatte, sembra impossibile che riesca a tenere calda una superficie così vasta. Ma la soluzione sta nella microinnovativa tecnologia che consente di usare meno potenza, meno energia per produrre l'elevato calore di cui abbiamo bisogno. Sai bene quanto è fastidioso e malsano sentire i piedi ghiacciati quando sei costretto a stare fermo durante le faccende domestiche? O mentre studi? O mentre lavori? Per non parlare quando al mattino presto ti spogli per lavarti nel bagno gelido. La vera innovazione consiste proprio nella sua combinazione tra portabilità e prestazioni. E sì, perché alla sera, quando hai finito di prepararti per andare a dormire, esci dal bagno con la tua Fast Power Heater e la colleghi vicino al letto. Così puoi sentire il tepore mentre leggi il tuo libro preferito prima di addormentarti. Ciò che è incredibile non è solo il costo contenuto, non è solo la sua compattezza, non è solo la sua portabilità, ma è soprattutto la sua capacità di scaldare una stanza intera. E la usi tutto l'anno, anche in quelle mezze stagioni, proprio quando non vuoi scaldare tutta la casa perché non ce n'è bisogno, ma al mattino o alla sera la temperatura scende e hai bisogno solo di quel giusto calore e solo per qualche ora. Di giorno puoi portartela comodamente dentro lo zaino, nella borsa, così puoi avere le tue gambe belle calde anche quando sei al lavoro. E allora basta bolletta alle stelle, basta trascinarsi per la stanza avvolti nelle coperte, basta indossare un maglione sopra l'altro. Da oggi puoi stare comodo a casa, sulla poltrona, sulla sedia, a letto e fare tutto quello che desideri nel pieno tepore grazie a Stufetta Perfetta by Fast Power Heater. Stufetta Perfetta, tua, a soli 49 euro. E solo per oggi, super offerta! In omaggio con Fast Power Heater, il comodo telecomando, per azionarla e regolare la temperatura che desideri senza alzarti. E inoltre, grazie alla funzione timer, puoi decidere tu quando vuoi che si spenga automaticamente. L'offerta è valida solo se chiami adesso. Cosa aspetti? Ogni volta che rientro a casa, la trovo sempre fredda e per riscaldarla impiego troppo tempo, mi costa troppo. Ma, grazie alla mia stufetta, ora risparmio tempo e soldi e mi permette di riscaldare solo l'ambiente di cui ho bisogno. Adoro Fast Power Heater. La porto sempre con me. È fantastica! Fast Power Heater ti permette di regolare le temperature che preferisci e le due ventole di cui è dotata fanno circolare l'aria distribuendo il giusto tepore in tutto l'ambiente. Ideale per luoghi umidi o per ambienti penalizzati da spifferi di porte e finestre. Ideale anche per scaldare garage o laboratori seminterrati. Grazie alle sue dimensioni compatte, puoi portarla con te ovunque tu vada. Fast Power Heater. Pratica, economica, efficiente. Il giusto compromesso per riscaldare i tuoi ambienti in poco tempo, senza ingombro e a basso consumo. Affrettati! Acquista Fast Power Heater per trascorrere il tuo caldo inverno. Vivo da solo e lavoro da casa. Spengo il riscaldamento generale perché lavoro nel mio comodo studio che scaldo con Fast Power Heater. È incredibile quanti soldi risparmio. Spesso mi diverto a fare qualche lavoretto manuale di bricolage. Prima nelle stagioni più fredde non potevo dilettarmi perché nel mio garage non riscaldato faceva troppo freddo. Ora basta che accendo la mia Fast Power Heater e posso stare al caldo tutto il tempo che voglio e divertirmi a fare i miei lavoretti. E allora basta bollette alle stelle, basta trascinarsi per la stanza avvolti nelle coperte. Da oggi puoi stare comodo a casa e fare tutto quello che desideri nel pieno tepore grazie a Stufetta Perfetta by Fast Power Heater. Stufetta Perfetta, tua a soli 49 euro e solo per oggi, super offerta! In omaggio con Fast Power Heater, il comodo telecomando per azionarla e regolare la temperatura che desideri senza alzarti. E inoltre, grazie alla funzione timer, puoi decidere tu quando vuoi che si spenga automaticamente. L'offerta è valida, solo se chiami adesso. Cosa aspetti? Sei freddolosa e vuoi che l'ambiente ovunque tu vada sia sempre caldo? Tieni basso riscaldamento per risparmiare sulla bolletta e sei costretto a stare in casa sempre sotto la coperta? Abbiamo la soluzione per te! Da oggi, puoi farlo senza riempire la tua casa, la tua borsa, con maglioni e coperte, ma semplicemente acquistando la nostra Stufetta Portatile a basso consumo Fast Power Heater. La metti in qualsiasi presa di corrente e in 10 minuti il tuo ambiente sarà caldo e confortevole. Puoi portarla con te ovunque. Non occupa spazio, è leggera ed economica. Grazie a Fast Power Heater, avrai un notevole risparmio pure sulle tue bollette. Anche se in dimensioni ridotte e bassi consumi energetici, riesci a riscaldare ambienti fino a 25 metri quadri in pochissimo tempo. Guarda la differenza prima e dopo 10 minuti con la nostra stufa. Fast Power Heater è piccola e potente. Grazie al suo innovativo design termoceramica, non ingombra e riscalda qualsiasi ambiente meglio delle stufe tradizionali così ingombranti, assicurandoti un notevole risparmio economico sulle tue bollette. Vedendo le sue dimensioni così compatte, sembra impossibile che riesca a tenere calda una superficie così vasta. Ma la soluzione sta nella microinnovativa tecnologia che consente di usare meno potenza, meno energia per produrre l'elevato calore di cui abbiamo bisogno. Sai bene quanto è fastidioso e malsano sentire i piedi ghiacciati quando sei costretto a stare fermo durante le faccende domestiche? O mentre studi? O mentre lavori? Per non parlare quando al mattino presto ti spogli per lavarti nel bagno gelido. La vera innovazione consiste proprio nella sua combinazione tra portabilità e prestazioni. E sì, perché alla sera, quando hai finito di prepararti per andare a dormire, esci dal bagno con la tua Fast Power Heater e la colleghi vicino al letto. Così puoi sentire il tepore mentre leggi il tuo libro preferito prima di addormentarti. Ciò che è incredibile non è solo il costo contenuto, non è solo la sua compattezza, non è solo la sua portabilità, ma è soprattutto la sua capacità di scaldare una stanza intera. E la usi tutto l'anno, anche in quelle mezze stagioni, proprio quando non vuoi scaldare tutta la casa perché non ce n'è bisogno, ma al mattino o alla sera la temperatura scende e hai bisogno solo di quel giusto calore e solo per qualche ora. Di giorno puoi portartela comodamente dentro lo zaino, nella borsa, così puoi avere le tue gambe belle calde anche quando sei al lavoro. E allora basta bollette alle stelle, basta trascinarsi per la stanza avvolti nelle coperte, basta indossare un maglione sopra l'altro. Da oggi puoi stare comodo a casa, sulla poltrona, sulla sedia, a letto e fare tutto quello che desideri nel pieno tepore grazie a Stufetta Perfetta by Fast Power Heater. Stufetta Perfetta, tua, a soli 49 euro. E solo per oggi, super offerta! In omaggio con Fast Power Heater, il comodo telecomando per azionarla e regolare la temperatura che desideri senza alzarti. E inoltre, grazie alla funzione Timer, puoi decidere tu quando vuoi che si spenga automaticamente. L'offerta è valida solo se chiami adesso. Cosa aspetti? Ogni volta che rientro a casa la trovo sempre fredda e per riscaldarla impiego troppo tempo, mi costa troppo. Ma grazie alla mia stufetta, ora risparmio tempo e soldi e mi permette di riscaldare solo l'ambiente di cui ho bisogno. Fast Power Heater ti permette di regolare le temperature che preferisci e le due ventole di cui è dotata fanno circolare l'aria distribuendo il giusto tepore in tutto l'ambiente. Ideale per luoghi umidi o per ambienti penalizzati da spifferi di porte e finestre. Ideale anche per scaldare garage o laboratori seminterrati. Grazie alle sue dimensioni compatte, puoi portarla con te ovunque tu vada. Fast Power Heater. Pratica, economica, efficiente. Il giusto compromesso per riscaldare i tuoi ambienti in poco tempo, senza ingombro e a basso consumo. Affrettati, acquista Fast Power Heater per trascorrere il tuo caldo inverno. Vivo da solo e lavoro da casa. Spengo il riscaldamento generale perché lavoro nel mio comodo studio che scaldo con Fast Power Heater. È incredibile quanti soldi risparmio. Spesso mi diverto a fare qualche lavoretto manuale di bricolage. Prima nelle stagioni più fredde non potevo dilettarmi perché nel mio garage non riscaldato faceva troppo freddo. Ora basta che accendo la mia Fast Power Heater e posso stare al caldo tutto il tempo che voglio e divertirmi a fare i miei lavoretti. E allora basta bolletta alle stelle, basta trascinarsi per la stanza avvolti nelle coperte, basta indossare un maglione sopra l'altro. Da oggi puoi stare comodo a casa, sulla poltrona, sulla sedia, a letto e fare tutto quello che desideri nel pieno tepore grazie a Stufetta Perfetta by Fast Power Heater. Stufetta Perfetta, tua a soli 49 euro e solo per oggi super offerta. In omaggio con Fast Power Heater il comodo telecomando per azionarla e regolare la temperatura che desideri senza alzarti. E inoltre, grazie alla funzione timer puoi decidere tu quando vuoi che si spenga automaticamente. L'offerta è valida solo se chiami adesso. Cosa aspetti? Sei freddolosa e vuoi che l'ambiente ovunque tu vada sia sempre caldo? Tieni basso riscaldamento per risparmiare sulla bolletta e sei costretto a stare in casa sempre sotto la coperta. Abbiamo la soluzione per te. Da oggi puoi farlo senza riempire la tua casa e la tua borsa con maglioni e coperte, ma semplicemente acquistando la nostra Stufetta portatile a basso consumo Fast Power Heater. La metti in qualsiasi presa di corrente e in 10 minuti il tuo ambiente sarà caldo e confortevole. Puoi portarla con te ovunque. Non occupa spazio, è leggera ed economica. Grazie a Fast Power Heater avrai un notevole risparmio pure sulle tue bollette. Anche se in dimensioni ridotte e bassi consumi energetici, riesci a riscaldare ambienti fino a 25 metri quadri in pochissimo tempo. Guarda la differenza prima e dopo 10 minuti con la nostra stufa. Fast Power Heater è piccola e potente. Grazie al suo innovativo design e termoceramica, non ingombra e riscalda qualsiasi ambiente meglio delle stufe tradizionali così ingombranti, assicurandoti un notevole risparmio economico sulle tue bollette. Vedendo le sue dimensioni così compatte, sembra impossibile che riesca a tenere calda una superficie così vasta. Ma la soluzione sta nella microinnovativa tecnologia che consente di usare meno potenza, meno energia per produrre l'elevato calore di cui abbiamo bisogno. Sai bene quanto è fastidioso e malsano sentire i piedi ghiacciati quando sei costretto a stare fermo durante le faccende domestiche? O mentre studi? O mentre lavori? Per non parlare quando al mattino presto ti spogli per lavarti nel bagno gelido. La vera innovazione consiste proprio nella sua combinazione tra portabilità e prestazioni. E sì, perché alla sera, quando hai finito di prepararti per andare a dormire, esci dal bagno con la tua Fast Power Heater e la colleghi vicino al letto. Così puoi sentire il tepore mentre leggi il tuo libro preferito prima di addormentarti. Ciò che è incredibile non è solo il costo contenuto, non è solo la sua compattezza, non è solo la sua portabilità, ma è soprattutto la sua capacità di scaldare una stanza intera. E la usi tutto l'anno, anche in quelle mezze stagioni, proprio quando non vuoi scaldare tutta la casa perché non ce n'è bisogno, ma al mattino o alla sera la temperatura scende e hai bisogno solo di quel giusto calore e solo per qualche ora. Di giorno puoi portartela comodamente dentro lo zaino, nella borsa, così puoi avere le tue gambe belle calde anche quando sei al lavoro. E allora basta bollette alle stelle, basta trascinarsi per la stanza avvolti nelle coperte, basta indossare un maglione sopra l'altro. Da oggi puoi stare comodo a casa, sulla poltrona, sulla sedia, a letto e fare tutto quello che desideri nel pieno tepore grazie a Stufetta Perfetta by Fast Power Heater. Stufetta Perfetta, tua a soli 49 euro e solo per oggi super offerta. In omaggio con Fast Power Heater, il comodo telecomando, per azionarla e regolare la temperatura che desideri senza alzarti. E inoltre, grazie alla funzione Timer, puoi decidere tu quando vuoi che si spenga automaticamente. L'offerta è valida solo se chiami adesso. Cosa aspetti? Ogni volta che rientro a casa la trovo sempre fredda e per riscaldarla impiego troppo tempo, mi costa troppo. Ma grazie alla mia Stufetta, ora risparmio tempo e soldi e mi permette di riscaldare solo l'ambiente di cui ho bisogno. Adoro Fast Power Heater e la porto sempre con me. È fantastica! Fast Power Heater ti permette di regolare le temperature che preferisci e le due ventole di cui è dotata fanno circolare l'aria distribuendo il giusto tepore in tutto l'ambiente. Ideale per luoghi umidi o per ambienti penalizzati da spifferi di porte e finestre. Ideale anche per scaldare garage o laboratori seminterrati. Grazie alle sue dimensioni compatte, puoi portarla con te ovunque tu vada. Fast Power Heater. Pratica, economica, efficiente. Il giusto compromesso per riscaldare i tuoi ambienti in poco tempo, senza ingombro e a basso consumo. Affrettati! Acquista Fast Power Heater per trascorrere il tuo caldo inverno. Vivo da solo e lavoro da casa. Spengo il riscaldamento generale perché lavoro nel mio comodo studio che scaldo con Fast Power Heater. È incredibile quanti soldi risparmio. Spesso mi diverto a fare qualche lavoretto manuale di bricolage. Prima nelle stagioni più fredde non potevo dilettarmi perché nel mio garage non riscaldato faceva troppo freddo. Ora basta che accendo la mia Fast Power Heater e posso stare al caldo tutto il tempo che voglio e divertirmi a fare i miei lavoretti. E allora basta bolletta alle stelle, basta trascinarsi per la stanza avvolti nelle coperte, basta indossare un maglione sopra l'altro. Da oggi puoi stare comodo a casa, sulla poltrona, sulla sedia, a letto e fare tutto quello che desideri nel pieno tepore grazie a Stufetta Perfetta by Fast Power Heater. Stufetta Perfetta, tua a soli 49 euro e solo per oggi super offerta. in omaggio con Fast Power Heater il comodo telecomando per azionarla e regolare la temperatura che desideri senza alzarti. E inoltre, grazie alla funzione timer puoi decidere tu quando vuoi che si spenga automaticamente. L'offerta è valida solo se chiami adesso. Cosa aspetti? Ogni volta che rientro a casa la trovo sempre fredda e per riscaldarla impiego troppo tempo, mi costa troppo. Ma grazie alla mia stufetta ora risparmio tempo e soldi e mi permette di riscaldare solo l'ambiente di cui ho bisogno. Fast Power Heater ti permette di regolare le temperature che preferisci e le due ventole di cui è dotata fanno circolare l'aria distribuendo il giusto tepore in tutto l'ambiente. Ideale per luoghi umidi o per ambienti penalizzati da spifferi di porte e finestre. Ideale anche per scaldare garage o laboratori seminterrati. Grazie alle sue dimensioni compatte puoi portarla con te ovunque tu vada. Fast Power Heater Pratica, economica, efficiente. Il giusto compromesso per riscaldare i tuoi ambienti in poco tempo senza ingombro e a basso consumo. Affrettati, acquista Fast Power Heater per trascorrere il tuo caldo inverno. Vivo da solo e lavoro da casa. Spengo il riscaldamento generale perché lavoro nel mio comodo studio che scaldo con Fast Power Heater. È incredibile quanti soldi risparmio. Spesso mi diverto a fare qualche lavoretto manuale di bricolage. Prima nelle stagioni più fredde non potevo dilettarmi perché nel mio garage non riscaldato faceva troppo freddo. Ora basta che accendo la mia Fast Power Heater e posso stare al caldo tutto il tempo che voglio e divertirmi a fare i miei lavoretti. E allora basta bollette alle stelle. Basta trascinarsi per la stanza avvolti nelle coperte. Basta indossare un maglione sopra l'altro. Da oggi puoi stare comodo a casa, sulla poltrona, sulla sedia, a letto e fare tutto quello che desideri nel pieno tepore grazie a Stufetta Perfetta by Fast Power Heater. Stufetta Perfetta, tua, a soli 49 euro. E solo per oggi, super offerta! In omaggio con Fast Power Heater il comodo telecomando per azionarla e regolare la temperatura che desideri senza alzarti. E inoltre, grazie alla funzione timer puoi decidere tu quando vuoi che si spenga automaticamente. L'offerta è valida solo se chiami adesso. Cosa aspetti?